E' bello a tutti ragazzi e ben tornati qui sul mio canale sono Allegamer97 Oggi siamo qui con la terza puntata del nostro Road to Cardi Toast ragazzi Gli ottavi di finale siamo qui con il torneo della serie A Toast Gli ottavi di finale me la sono giocata da solo a parte Invece adesso ci andiamo a giocare questa partitozza dei quarti di finale Quindi quest'oggi vedremo vedere dei quarti di finale e semifinale Invece nell'ultimo episodio finale e eventuali altre cose Insomma una partita via Attenzione parolo Attenzione parolo ancora Bisogna andare a chiudere ragazzi Pillo 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 Oh doffa antullo ma Palla ora per pillo pillo Appoggio verso Oh ma che amma la nasce Attenzione ora Salah Salah deve inventarsi la giocata Salah Palla per Jeremy Palla per Jeremy Palla per Jeremy Palla per Jeremy E' un 0 Su così ragazzi Su così Caccio di rigore per noi ragazzi Netto proprio C'era il mio mio e l'ho fatta passare sotto le mani E quindi calcio di rigore per noi E' difficile che i giocatori si accusino di un fallo Vabbè io però me lo prendo Andrea Pirlo Attenzione Andrea Pirlo Andrea Pirlo 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 in gol Andrea Pirlo in gol ragazzi Andrea Pirlo in gol Allora ragazzi Abbiamo finito Abbiamo finito i quarti finale Ora siamo qui con la semifinale Che ci andiamo subito a giocare Tanto qua è finito il contratto ad Antonio Conte Quindi noi apriamo il contratto E andiamo immediatamente a giocare la nostra semifinale La nostra seconda partita di quest'oggi Via Dai ragazzi Dai ragazzi dai siamo carichi Siamo in semifinale Dopo questa partita ragazzi Ci sarà la nostra finale Che se voi vedrete in In un prossimo appuntamento Quindi l'appuntamento di venerdì Dai Vai così Vai così ragazzi Vai così sono carico Iniziamo la partita No la puoi perdere lì La mette in mezzo Ezzo Mamma mia andano lice Andano lice cosa ha preso Io ora voglio partire subito Geremì Geremì in velocità Geremì in velocità Vuole andarsene lui Geremì in velocità E Rigore Calcio di rigore per lui Calcio di rigore per lui ragazzi E calcio di rigore per lui Se l'è conquistato lui ragazzi Se l'è conquistato Geremì in velocità Pirlo Ti vedi dalla faccia che è cattivo ragazzi È pronto Andrà Pirlo Andrea Pirlo 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 1-0 per noi ragazzi Grande frettizza dal dischetto De Silvestri Valla in area Che linea brutta alla via Valla per Mario Gomez Era verso Jeremy Meneze Jeremy Meneze Jeremy Meneze Jeremy Meneze è solo Prova a andare E' un grandissimo Tanto forte di Jeremy Meneze Il grandissimo Tanto forte di Jeremy Meneze Che chiude qui il match Che chiude qui il match ragazzi Jeremy Meneze Chiude qui la partita 2-0 2-0 2-0 97 La mia squadra Sta dominando Attenzione Bella così Bellissima È finice qui ragazzi È finice qui È finice qui ragazzi Siamo giunti Alla finale E sono un passo dal trionfo Piatuigi Qui facciamo caricare Tutti i caricamenti Se è 68 E' buono Se tutto è stato A sapere Ci possono servire Bene Continuano Sto rotto I carditox Quindi ragazzi Siamo giunti In finale Ole Siamo giunti in finale Andremo ad affrontare La Juventus Tutto questo Nel prossimo appuntamento Di venerdì Allora quindi ragazzi Il video di oggi Può finire qui Io spero Che questo video Vi sia piaciuto Mi raccomando Lasciate Tanti bei pollicioni in su Commentate qui sotto Se volete vedere altre serie Perché se qua sta Per giungere al termine Quindi Commentate qui sotto Altre serie Che volete vedere Magari anche un altro Road to Qualcos'altro Qualche altro giocatore E Condividete questo video Mi raccomando ragazzi Iscrivetevi al canale Iscrivetevi al canale E Noi Ci vediamo Venerdì Con l'ultimo episodio Della Road to I carditox Mi raccomando Tanti like Iscrivetevi al canale Ragazzi Bella Bella Tanti like Tanti like Tanti like Tanti like